Io parlo spesso di energia però faccio vedere se la telecamera si abbassa un attimo Quello che parla in questo video accanto a me è il direttore del centro europeo per le previsioni climatiche a medio termine Cioè l'Europa si è dotata, tra i vari enti, di un centro appunto europeo per le previsioni a medio termine E il direttore è un italiano e non è neanche difficile da ricordare perché si chiama Buontempo Quindi in questo caso nome o meno Come il commissario dell'acqua per la facoltà Io invito i cittadini che volessero approfondire un po' la materia a andare nel mio canale Facebook C'è un'ora e venti di colloquio in cui parla praticamente sempre lui giustamente perché è il suo mestiere appunto della situazione climatica Quello che mi preme dire è che dobbiamo precisare che non si può più usare il termine eventi eccezionali Perché sono diventati eventi normali e anzi sono ancora minori degli eventi che ci aspettano negli anni prossimi Questo matematicamente, fisicamente perché la terra ha un'inerzia tale Per cui anche se domani spegnessimo tutto e il genere umano scomparisse Comunque il clima peggiorerebbe perché l'inerzia del pianeta Terra è enorme Nel passaggio tra inverno, primavera e estate non è che le case si scaldano da un giorno all'altro Ci vuole qualche giorno perché anche le case hanno un'inerzia Il pianeta ce l'ha molto più grande per cui il clima che abbiamo adesso è in realtà la fotografia di anni fa Per cui questi non sono eventi eccezionali ma sono eventi che sono normali Ora in pochi minuti chiaramente parlare delle soluzioni, delle cause Butto lì due cose veloci Prego, prego Cementificazione, la cementificazione impermealizza il suolo E questa è la cosa peggiore che possiamo fare in assoluto L'acqua non viene più trattenuta, non passa più giù a ricaricare le falde E viene dilavata immediatamente Poi possiamo parlare all'infinito del fatto che non sono state fatte le operazioni di manutenzione Bonifiche, gli enti sono incompetenti ma anche il personale Viene fatto apposta perché poi nelle situazioni di emergenza arrivano soldi a pioggia Che vengono gestiti con gare private Possiamo parlare ore e ore Andiamo alle cose alla base di tutto Quello che può fare il cittadino è quello che deve fare la politica Allora la base di tutto, l'ha già detto anche il generale Se non ho capito male Ci sono le filiere delle fonti fossili La filiera delle fonti fossili, ricordiamolo, emette il 75% dei gas climalteranti Punto, punto Questo lo dicono la stragrande maggioranza degli scienziati, delle associazioni La causa principale sono le fonti fossili Quindi fonti energetiche fossili Quindi bisogna passare alle fonti rinnovabili Il più velocemente possibile E avete davanti il rappresentante di una forza politica Che ha generato le comunità energetiche rinnovabili Che sono la maniera migliore per disporre delle fonti energetiche rinnovabili Quello che può fare il privato, il cittadino, la signora Maria È acquistare elettricità da fonte rinnovabile Perché costa uguale Costa uguale Non è che se passate un fornitore a fonte rinnovabile vi costa di più No, vi costa uguale perché il mercato è unico Però fate una scelta che fa un'enorme differenza Perché spinge i produttori a produrre più energia rinnovabile La politica deve porre una tassa alle frontiere Perché sempre in generale, e mi fa piacere che così è neutrale E lo ha ribadito L'Europa conta un 8, forse anche un 10% rispetto alle emissioni globali Quindi dobbiamo mettere una tassa alle frontiere In maniera che tutto quello che arriva in Europa Vengano internalizzati i costi ambientali Quindi la penna che arriva a 2 centesimi Perché è stata prodotta con sistemi molto inquinanti Con procedure molto inquinanti Deve avere una tassa che faccia sì che il suo prezzo Non sia così conveniente rispetto ai materiali europei Così salvaguardiamo anche le nostre produzioni Però venendo appunto a quello che può fare il privato Il privato può fare questo Appunto quindi acquistare elettricità da fonte rinnovabile E già farebbe una cosa immensa Dopodiché privato e politica Dobbiamo ancora una volta andare alla radice Radice del problema E cioè le banche Le banche che semplicemente decidono dove deve muoversi l'economia E le banche ancora puntano alla filiera delle fonti fossili E le banche continuano a investire pesantemente sulle fonti fossili Il privato può rivolgersi a banche che non investono nella filiera delle fonti fossili E ci sono E la politica deve regolamentare le banche Perché nel 2008-2009 abbiamo avuto il disastro che abbiamo avuto Adesso guardatevi i giornali degli ultimi mesi È fallita la Silicon Bank È fallita la Citibank Svizzera Stanno fallendo altre banche mondiali E il governo statunitense ha già detto Non possiamo permettere che falliscano Sono soggetti privati Ancora una volta arriveranno soldi pubblici Per salvare soggetti privati Grazie Gian Girotto